Salve, mi fan da tutto il mondo, io sono Francesca e questa sarà la seconda parte del Bookshelf Tour, quindi finirò di farvi vedere questa libreria Arcobaleno e poi ci saranno altre puntate, idealmente dovrebbero essere altre due, altre due se non sbaglio, se tutto va bene, buona visione. Allora, qui abbiamo Il labirinto degli spiriti di Zafon, che lo devo ancora leggere perché mi spaventa, se devo essere sincera, 600 pagine, mi fissa dalla libreria, ho paura, The Crown di Kira Kesson, l'ultimo dell'Accademia dei Vampiri, il primo e il quarto di Quattro amico in paio di jeans, Zia Mame di Patrick Dennis, qui e ora di Anne Brasharis, che è sempre l'autrice di Quattro amico in paio di jeans, poi Twenties Girl di Sophie Kinsella, che è il mio libro preferito della Kinsella e uno dei miei libri preferiti in generale, cosa posso dire, i miei standards sono molto bassi. The One di Kira Kesson, One of Us is Lying di Karen M. McManus, io di solito non amo molto i misteri, i gialli, però questo mi è piaciuto molto e è anche molto semplice in inglese, esiste però anche in italiano. Beastly di Alex Flynn, da cui avevano anche tratto il film con Vanessa Agence, oddio, che ricordo! Qua dietro abbiamo La Chimera di Praga di Laini Taylor, Dentro Genna è l'eredità di Genna di Mary Person, poi abbiamo parte della saga di Divergent, abbiamo Four, Divergent e Allegiant, il secondo l'avevo letto in ebook, non mi ricordo perché va bene, poi Raccontami di un giorno perfetto di Jennifer Neven, Birth Date e Death Date di Lance Rubin, anche qua sono nell'ordine sbagliato, poi Alter Ego di Suzanne Wynneacker e di Ryan Grodin Wolf. Allora, qua il primo libro è Girl Serpent Thorn, che ha una copertina bellissima, è in inglese ed è una storia carina, diciamo, non è una serie quindi si può leggere tranquillamente se state cominciando con i fantasy o con l'inglese, è diciamo adatto. Di Victoria Schwab, The Savage Song e Our Dark Duet, che a me non è piaciuto, mi piace molto A Darker Shade of Magic della Schwab, però non questa serie. Sabriel di Gartniks, Signora della Mezzanotte di Cassandra Clare, copertina scusatemi, bruttissima, sempre di Shadowhunters, storie di illustri Shadowhunters e abitanti del mondo dei nascosti, che sono, c'è un libro con i disegni, i personaggi, proprio l'inutilità fatta libro, ma io sono debole. Qua abbiamo di Neil Shusterman, che è l'autore di Falch, Everlost, che è una serie ovviamente interrotta, sui fantasmi, e sempre di Neil Shusterman, Unwind, La Divisione, ovviamente interrotta e molto molto creepy secondo me. Poi c'è Tenebre Ghiaccio di Libardugo, ovviamente interrotta anche adesso, però è stata portata avanti. Poi Cacciatrici di Jay Pearce, Legend, Prodigy e Champion di Mary Lou, The Tower e The Tower Vertigo, che sarebbe il secondo, della Maggie. Gli ho letto solo il primo, non penso a leggere il secondo. Poi c'è Incantesimo Sortileggio Maleficio di Rachel Hawkins, che è molto, ma anche questo più sul middle grade secondo me, che young adult, però piacevole niente di che. Qui abbiamo di Lauren Oliver, ragazze che scompaiono, e Panic con delle copertine stupende. Sempre di Shadowhunters, Signore delle Ombre, che passiamo avanti. The Hate U Give di Angie Thomas. Tutti per Uno di Pitacus Lore, che è l'ultimo del numero 4. Poi Amiche per la pelle di Christopher Pike, che è un thriller, penso young adult, l'ho letto 20.000 anni fa, però veramente mi era piaciuto tanto. After di Jessica Worman, non è after, quell'after, è un after migliore, sinceramente, non so perché l'ho preso, però ce l'avevo sentito parlare da nessuna parte, però veramente è molto bello. Non fa parte di una serie, è questa qua che si risveglia ed è stata uccisa, cioè è un fantasma che tenta di capire chi l'ha uccisa ed è molto molto bello. Regina Rossa e Spada di Vetro. Il primo e il secondo della serie di Regina Rossa, che... Ok. Te la sei cercata di Louise O'Neill, è sempre la stessa autrice del Silenzio dell'Acqua, veramente, veramente bello. Il potere del numero 6 di Pitacus Lore, che è il secondo della serie del numero 4. In questo cubicolo abbiamo Caraval di Stephanie Garber, a cui non avrei dato due lire, invece a me è piaciuto, devo ancora leggere i seguiti però. The Book Thief di Michael Zusak, quindi la ladra di libri in inglese, che ho letto in inglese, devo dire che mi è piaciuto molto di più quando l'ho letto in inglese, non so se è la lingua o era al periodo, però... E ho pianto tantissimo, è inutile dirlo. La nave di Teseo di J.J. Abrams e Doug Dorst, che è un libro veramente particolare e molto bello, proprio come oggetto. Vedete, c'è tutto segnato, ci sono tipo delle cartoline, e diciamo libro nel libro, è molto complesso da leggere, però ne vale la pena. Anche se J.J. Abrams non ti ho ancora perdonato per quello brobrio, che è The Rise of Skywalker, ma passiamo avanti. Rebel, la nuova alba, che è l'ultima della serie, che devo ancora leggere. Grizzly di Christine Cashore. Io sono il messaggero di Marcus Zusak, che è appunto l'autore della ladra di libri. La ragazza che leggeva nei cuori di Terry Brown. Wicked di Jessica Spotswood. Il Palazzo della Mezzanotte di Zafon. La sfida del numero 5. E sono il numero 4 di Pitacor's Law, che penso siano... Questo sicuramente è il primo e questo è il quarto della serie. Allora, qui abbiamo Sette minuti dopo la Mezzanotte di Patrick Ness. Dark Matter di Blake Rouch. Se vi piace la fantascienza ve lo consiglio. Ma non ti dice Matter. Cosa ho detto? Matter. Vabbè... Che purista! Che purista! Di Halloween Hamilton. Rebel, il deserto in fiamma e il tradimento. Devo ancora leggere il tradimento. Ho letto il primo. Poi, le luci di settembre di Zafon. Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams. Uno dei miei libri preferiti. A Monster Calls di Patrick Ness, che non è altro che Sette minuti dopo la Mezzanotte in inglese. Questa è l'edizione illustrata. È molto molto bello. Ovviamente aprono la pagina dove ci sono zero illustrazioni. Molto bello. Sembra un po' inquietante, però... Sì, è un po' inquietante, però anche molto triste. E molto semplice da leggere in inglese. Cursed di Jessica Spotswood. Il Circo della Notte di Erin Morgenstern. Hollow City, cioè il secondo dei bambini speciali di Miss Peregrine. Artemis di Andy Weir, che è l'autore di The Martian. Quello che ha dato anche il film. E Bestemmia, ma a me è piaciuto più Artemis che The Martian. Murderbot di Martha Wells. E questo raccoglie tre romanzi... No, quattro romanzi brevi con protagonista Murderbot. Molto molto bello. Poi Sole per sempre tua di Louisa O'Neill. Sempre quell'autrice di Te lo sei cercata e il silenzio dell'acqua. E questo è il mio libro preferito suo. È uno dei miei libri preferiti in generale. E Marina di Zafon, che è uno dei miei libri preferiti di Zafon. E lì dietro abbiamo un proprio della letteratura. Cioè, io adoro i viaggi nel tempo, me li mangerei anche a colazione. Però questo era proprio noioso. Cioè, io non so. E lo dico io che amo appunto i viaggi nel tempo, ma... Veramente noiosissimo e pesantissimo. Allora, qui abbiamo una serie di biografie storiche. L'Azzarina Alessandra di Carly Erickson. Sissi di Nicole Avril. Elisabetta Prima di Carly Erickson, sempre. E per ora mi manca solo L'Azzarina Alessandra. L'ospite di Stephanie Meyer, che mi piacque tantissimo. Nota dolente in molti punti di vista, perché come sappiamo Jake Rowling non è una bella persona. Io, a differenza di molti, non ho una passione per Harry Potter. Ma mi piace tantissimo la serie Di Richiamo del Cuculo e La Via del Male, il terzo, il secondo e il quarto ce l'ho in ebook. Perché a meno soldi do con la donna, meglio mi sento. Ma passiamo avanti. Qua abbiamo una duologia italiana, Il Milenio di Fuoco, Seija e Raipo. Il primo mi era piaciuto tanto. Il secondo, discutibile e dire che a me piacciono gli enemies to lovers. Ma qua... Vabbè. L'ultimo della serie di Regina Rossa, Tempesta di Guerra. I primi tre della serie del Trono di Ghiaccio, cioè il Trono di Ghiaccio, la Corona di Mezzanotte e la Corona di Fuoco. Mentre qua dietro abbiamo Anna Vestita di Sangue di Kendare Blake, Looking for Alaska in inglese di John Green, molto semplice e molto facile. Violet di Jessica Brody, ovviamente mai continuata. Il Segreto della Bella Addormentata di Luca Centi. O'Boy di Mary Ode Morelle, Forever di Amy Engel. La Detective di Y.S. Lee, il secondo della serie, non so perché l'essi quello. Bellezza crudele di Rosamund Hodge. Dov'è finita Audrey di Sophie Kinsella. Albion di Bianca Marco Nero. Attraverso il Fuoco di Giuseppina Angelini. Anna sta mentendo di Federico Bacomo. Sempre di Libba Bray, l'autrice che piace a tutti, ma no, una grande e terribile bellezza. E di James Dashner, che è l'autore di Maze Runner. Vietnet Runner di programma e il giocatore. Era molto carina, però non ho mai letto l'ultimo. E qui abbiamo le graphic novel e altri libri un po' strani. Potreste aver notato che è cambiato un po' l'ordine dalla clip precedente, ma i giorni passano, le stagioni cambiano e così anche la libreria. Noi abbiamo Jennifer JPEG di Sio, che ho preso quando ha fatto il firma copie. Questa sarebbe Marianne Giangela con i miei occhiali, li ho chiesto a Sio. E questa, l'Alessia non c'era, quindi ha fatto ciao Alessia con sempre Marianne Giangela. Questa è una delle poche graphic novel che noi leggiamo. Ed è Il castello tra le stelle di Alex. È francese, quindi sarebbe Alice. Chi lo sa? Alex Alice? Boh, non lo so. Però per ora abbiamo solo... Cioè, esistono solo due volumi. Diciamo che l'esthetic è la mia, nel senso che a me piace un sacco. È ambientato all'inizio del Novecento, è un po' un steampunk, vedete? Abbiamo Vienna, la Svizzera, c'è la principessa Sissi, quindi io triggeratissima, bellissimo. Poi qui abbiamo Cronaca dell'Ispiegabile, un libro che ho rubato a nostro papà, che praticamente mostra appunto racconti di fatti incredibili ma veri. Quindi abbiamo sparizioni misteriose, coincidenze storiche strane, fantasmi, queste cose qua mi piacciono tantissimo. Poi qui abbiamo le storie che leggeva nostra mamma quando eravamo piccole, prima di andare a dormire, quindi Lilia dell'Odissea, racconti mitologici, D'eroe dell'Olimpo, Leneide, i cavalieri della tavola rotonda, la Divina Commedia. Ovviamente sono tutti, diciamo, semplificati per bambini, però molto belli. Abbiamo Alphonse Mouchin, che è il mio artista preferito e quindi abbiamo un libro su l'art nouveau e, sì, molto bello. Abbiamo l'altra saga, oh, l'altra saga, no, l'altra serie di fumetti che leggiamo, che si chiama Saga di Brian K. Vaughan e Fiona Staples. E questo è il volume 1 che contiene i primi tre, mi sa, i primi tre della serie. Sì, dobbiamo continuare. Poi qui abbiamo la storia delle terre dei loghi leggendari di Umberto Eco, che è proprio quello che sembra. Cioè qua abbiamo, per esempio, parla di Atlantide, parla del Santo Graal, eccetera, eccetera, molto bello. Poi, direttamente dal 2013, abbiamo The Art of Frozen. Io sono un'esperta, a parte me ne vergogno, però sì, ti racconta come è stato fatto il film, ci sono i concept art, i storyboard e a me anche piace molto vedere come è stato creato un film, soprattutto i film di animazione, quindi sì. E poi qua abbiamo Oltre l'onda e quindi parla delle opere dell'arte giapponese e c'è stata la mostra a Bologna, noi siamo andati a vedere. Molto molto bella, molto interessante. Allora, qui abbiamo una parte della libreria che non è in ordine di colore. Abbiamo il cofanetto delle Remnant Chronicles di Mary Pearson, The Kiss of Deception, The Heart of Betrayal e The Beauty of Darkness in inglese. Non esiste in italiano, non è molto semplice, però non è neanche consigliatissima, sinceramente. Poi qui abbiamo la copia che ho letto io di Fallen, di Lauren Kate, perché qua invece ne abbiamo un'altra che mi ha dato una mia amica, che tanto lei non la voleva perché macciasse con le altre della serie, sì, ho dei problemi. Questa serie ovviamente è trash, però molto divertente, diciamo decente, dai. A Frozen Heart, poi abbiamo Reflection di Casey West, anche questa era solo una duologia, ma sono riusciti comunque a interromperla. Poi abbiamo Il dominio del fuoco di Sabatair, Io sono a buio di Kristen White, anche questo interrotto. Good Omens di Terry Pratchett e Neil Gaiman, questi sono dei miei libri preferiti. e anche la serie è bellissima e molto fedele al libro, veramente bella. Allora, adesso comincio la parte della libreria dove tengo tutti i libri che devo ancora leggere, che di solito appunto li tengo tutti insieme. Di Agatha Christie, poi ero sul Nilo, che volevo leggere prima di vedere il film, hanno rimandato il film a chissà quando, per cui dovrò aspettare. Daphne di Tatiana De Rosnei, che è praticamente la biografia di Daphne du Maurier, che è un'autrice di Rebecca, che ho letto, è diventato uno dei miei libri preferiti. Ho preso questa missione di leggere tutti i libri di Daphne du Maurier e anche di saperne di più su questa autrice. Infatti, qua abbiamo anche Mia Cugina Rachele, di Daphne du Maurier, e La Baia del Francese, sempre di Daphne du Maurier. Poi qui abbiamo La Trilogia Intera del Castello Errante di Aou, ho visto il film per la prima volta quest'anno, sì, lo so, e mi è piaciuto tanto e quindi volevo leggere il libro, perché una cosa che non mi era piaciuta tanto del film era che magari i personaggi erano un po' poco, diciamo, approfonditi e un libro dovrebbe dare di più sotto questo aspetto, quindi yes. Poi Una Fiamma nella Notte di Sabatair, che è il seguito del Dominio del Fuoco, ma da quello che mi dice la regia non deve essere un granché. No. Il problema è che non mi ricordo niente del Dominio del Fuoco, questo potrebbe essere un problema. Andiamo ad un po'. Figlie di una nuova era, di Carmen Korn, che è il primo di una serie di tre libri storica, che devo ancora cominciare appunto. Lungo Petalo di Mare, di Isabella Lende. Parli del Diavolo, di Michael Poore, che ho preso così praticamente a scatola chiusa, ma non troppo, perché la trama parla di Satana che arriva nel mondo nostro. E io ero appena reduce da una maratona di tutte e cinque le stagioni di Lucifer, quindi ne sentivo il bisogno fisiologico. Poi La fila della foresta, di Julie Marie Lillier. Poi La nave della magia, di Robin Hobb. Però io prima di leggere questa serie voglio leggere sempre di Robin Hobb, l'apprendista assassino, perché dovrebbe essere quello l'ordine, quindi aspetterò. E poi L'occhio del mondo, di Robert Jordan, che è il primo della serie della ruota del tempo, che anche, cioè diciamo, mi spaventa alquanto, 14 libri, però prima o poi bisognerà iniziare. E poi lì dietro abbiamo Harry Potter, che sì, mi è piaciuta, l'ho letta all'inizio delle superiori, ma non mi è rimasta proprio nel cuore, quindi rimane lì nell'oscurità e ci va bene così. Allora, qui abbiamo un'altra piletta dei libri che non ho ancora letto. Abbiamo Storia della bambina perduta, di Elena Ferrante, che è il quarto della serie dell'amica geniale. Io amo questa serie, però è tradizione che praticamente guardo la stagione della serie e poi subito dopo leggo il libro seguente, no? L'ho fatto con la prima, con la seconda, adesso, quindi prima di leggere il quarto, dovrò vedere la terza stagione, che chissà quando uscirà. Avevano spenta anche La luna di Ruth Aspetis, Legend di Stephanie Garber e il secondo di Caraval, La spia del mare di Virginia de Winter, che comprai 800 anni fa, provai a leggerlo, ma l'abbandonai, però adesso penso che potrebbe piacermi di più, perché non è young adult, è più per adulti, quindi forse adesso potrei apprezzarlo. Girls of Storm and Shadow, di Natasha Anganna, che è il seguito di Girls of Paper and Fire. Abbiamo poi questo mattonello, che è di Anne Lecky, Ancillary, Justice, Sword e Mercy, infatti sono tre libri di una trilogia, che hanno come protagonista una nave senziente che cerca vendetta. Io amo la fantascienza, quindi, però, appunto, un po' mi spaventa, anche se non è un libro intero. Sono tre, però prima o poi ce la farò. Le guerre del mondo emerso, il primo c'è La setta degli assassini, di Licia Troisi, che io non sono proprio un'amante di Licia Troisi, ho letto solamente la prima serie del mondo emerso, che non mi è piaciuta tantissimo. Infatti questo me lo sto tirando un po', cioè, ho provato a leggerlo, ma mi aveva quasi messo in una reading slump, quindi, boh, vedremo, non so. Poi abbiamo Where Dreams Descends di Janelle Angels, che è il primo di una duologia fantasy, è in inglese, e l'hanno venduto come Moulin Rouge incontra il fantasma dell'opera, quindi, cioè, sono tua. Poi Furyborn di Claire Legrande, è il primo di una trilogia fantasy in inglese. Anche questo mattonazzo, la trilogia Luna di Ian MacDonald, che forse non avrei dovuto prendere così a scatola chiusa, perché avevo letto prima le prime cento pagine del primo libro, però è molto, cioè, abbastanza pesantello, cioè, è un po' freddo, si legge in modo un po' distante dai personaggi, però, boh, magari riproverò. Poi abbiamo La Città di Ottone di S. H. H. Borty, in questa bellissima edizione della Oscar Vault, è il primo di una serie, e anche questo lo devo ancora leggere, ovviamente, perché lo sto ripetendo. Tutti questi devo ancora leggere, vabbè. Ho ritrovato delle robe che erano cadutine, abbiamo Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi, e La Ragazza con l'orecchino di perla di Tracy Chevalier. Poi abbiamo The Ones di Veronica Roth, che è l'autrice di Divergent. Infine, giuramento di Brandon Sanderson, che è il terzo della serie della Folgoluce. Io ho il secondo in ebook pronto, ma il primo non ce l'ho, perché l'ebook costa 12 euro, preferirei di no, e non lo voglio prendere in cartaccio, perché lì costa 30 euro invece, quindi sto aspettando di trovarlo magari usato, oppure che ci sia una, non so, uno sconto ebook, e comunque bellissimo, veramente stupenda questa edizione. Poi qua ci sarebbe un bellissimo armadio, che sono tutti i libri di mia madre, che devo ancora leggere e che mi ruba, e volevo solo fare degli share out, quindi abbiamo Corinna e la regina dei mari, questo, ero partita carichissima, poi quando lui ha cominciato a ringhiare ho detto no. Qui abbiamo Il cielo è rosso, di Giuseppe Berto, che è un libro che ho letto per la scuola, ed è diventato uno dei miei libri preferiti, in assoluto. E poi qua in basso abbiamo L'Hobbit, che ho letto, adesso dovrei ancora leggere Il Signore degli Anelli, ma ci arriverò. Poi il secondo della Figlia della Foressa, che non ho letto il primo, quindi... E poi abbiamo il resto della serie dell'Amica Geniale. Bene, il video è finito, andate in pace, ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie.